C'è una canzone che mi hanno cantato questa sera C'è questa per esempio Però c'è una in particolare alla quale io tengo moltissima Perché è una canzone che ho diviso con questa grandissima cantante che è Mina E visto che lei non c'è io avevo pensato di fare una cosa un po' diversa Una versione nostra Ci proviamo? Ci vuoi provare anche tu? Proviamoci Cantiamo insieme in libertà Lasciando andare la voce dove va Così per scherzo tra di noi Posso provarci anch'io se vuoi Inizia pure Vai Sai La melodia che canterei Sarebbe quasi un po' così Potrebbe essere Aprendo l'anima così Lasciando uscire quello che Ognuno ha dentro Ognuno in fondo a se stesso Che per miracolo adesso Sembra persino più sincero Nel cantare Nel cantare insieme Questione di fine Così per scherzo tra di noi Improvvisando un po' Ti seguo pure Vai La sera arriva Il giorno piano piano se ne va Ma se canti resta là Sessione di film Aprendo l'anima così Lasciando uscire quello che Ognuno ha dentro Questione di film Lasciando emergere in noi Spontaneamente quel che c'è Nascosto in fondo Questione di film La sera arriva La sera arriva No, no, no Questione di film Fini Fini Grazie.